ci saranno anche gli arciaplatte corretta la pronuncia si è perfetta perfettissimo quindi potrebbe venire anche recitare con noi perché il dialetto è preciso gli arciaplatte il terzo anno che veniamo qui con la commedia condominio sirena condominio sirena è una storia lo dice già il titolo che si che si svolgerà all'interno di un condominio però un condominio particolare perché qui a Fano nella nostra zona non siamo abituati ma ha una portineria in questa portineria ci lavora una ragazza che fa la portinaia e quindi fa anche le piccole faccende ed essendo carina ed essendo giovane crea un po di scompiglio nei maschietti del condominio di conseguenza nelle moglie dei maschietti del condominio e quindi verranno fuori delle cose un po un po particolari e quindi secondo me noi l'abbiamo presentata alla sala Don Milani a Bellocchi e abbiamo avuto un buon risconto abbiamo fatto tre serate abbiamo riempito tutte e tre le sere è vero che la sala non è molto grande però la gente si è divertita e quest'anno anche diciamo quest'estate la riproponiamo all'arena BCC ricordiamo la data la data è allora qui c'è c'è un però per noi per motivi che non sto a dilungarmi siamo stati spostati al mercoledì quindi noi saremo in scena mercoledì 31 luglio alle ore 21 e 15 e se volete divertire capire come funzionano i condomini veniteci a vedere ne imparerete delle delle belle Grazie a tutti